Perché pure questa cosa che noi abbiamo accettato come giornalisti, cioè noi come giornalisti abbiamo accettato di non poter controllare più niente, non potevamo, le udienze non erano più pubbliche, non si poteva entrare negli ospedali, non si poteva neanche fare le domande in conferenza stampa, ci inchinavamo, ci inchinavamo, ci siamo inchinati. Quindi io che cosa vorrei? Vorrei che piano piano i bravi giornalisti, i bravi direttori, piano piano ci alleassimo, alleiamoci per non far vincere un movimento politico transnazionale che va verso comunque qualcosa che non è una democrazia.